Sede si retta. Dentro alla mia vita sverna un ottuso dubbio maestoso. Anche Suor Teresa di Calcutta ha avuto dei dubbi sull'esistenza dell'oltre. Allora affronto e infuriato il mio giorno, che è irriducibile, mi porta a un altro giorno. È sempre come prima. Giorni fa mi è venuta un'idea molto seria. E se desi retta al dubbio e non credessi più all'oltre? Commento. Non ce la faresti. Ormai l'oltre ti possiede. Per adesso con la mente, crescendo con sentire. Grazie a tutti.